Ciao a tutti, da Argomenti La Voce dei Cittadini ci troviamo con Stefano Roma presso il campo sportivo del San Cesario Calcio, quindi oramai come argomenti usciamo anche dal comune di Frascati e ci stiamo sempre più allargando anche con comuni limitrofi. Allora, la piacevolezza di avere l'amico Stefano Roma qui presso la struttura sportiva del San Cesario Calcio perché Stefano Roma è stato l'ideatore, il promotore dell'evento Diamo un calcio al bullismo. Stefano, un grande evento che è partito da te, che ha avuto l'adesione di grandi personaggi, da Papa Francesco, calciatori della Roma e della Lazio, presidenti di altre società sportive della Serie A, così come di calciatori anche del presidente Malagò. Allora Stefano, spiega adesso in questo video Diamo un calcio al bullismo questa grande iniziativa. Sì, allora prima di tutto un saluto a tutti voi, circa un anno e mezzo fa è nata questa iniziativa dall'idea proprio di poter trasmettere a quante più persone possibile il concetto e il motto proprio contro il bullismo. Quindi è nato questo slogan Diamo un calcio al bullismo, è nato qui dallo Sporting San Cesario e grazie alla Lega Nazionale di Lettanti abbiamo lanciato questa iniziativa e patrocinata dal CONI e dalla presidenza della Regione Lazio siamo arrivati a ben 120 adesioni di società sportive direttantistiche. Dopodiché abbiamo praticamente presentato delle iniziative come l'iniziativa appunto al Vaticano, siamo arrivati fino a Sua Santità Papa Francesco che ci ha benedetto l'iniziativa ed è stata una giornata bellissima, ha siglato la maglia con lo slogan Diamo un calcio al bullismo e abbiamo avuto il grande piacere di donargli proprio una nostra maglia dello Sporting San Cesario e dell'iniziativa. Perché siamo qui? Siamo qui principalmente a dirvi che a breve quindi precisamente sabato 1 giugno 2019 dedicheremo a tutti voi, a tutti coloro che vorranno partecipare il primo grande evento di Diamo un calcio al bullismo e questo grande evento sarà il primo in Italia che riuscirà a riunire oltre 120 società sportive laziali. Questa iniziativa sta veramente prendendo piede alla grande perché siamo stati anche contattati da altre società oltre la regione nazionale e stanno tutti facendo a cerchio questa iniziativa che è appunto proprio il messaggio che vogliamo portare nel mondo dello sport che è quello contro il bullismo quindi grazie e attraverso lo sport cercare di debellare questo fenomeno che poi purtroppo si riversa anche nelle scuole. Quindi detto questo vi volevamo dire rimanete collegati proprio con argomenti perché prossimamente vi faremo sapere altri rispolti in merito all'evento del primo giugno 2019 dove ci saranno i nostri testimonial che saranno Ciccio Caputo che gioca attualmente in Serie A con il nostro grande amico Marco Amelia campione del mondo con la nostra nazionale e avremo altri ospiti illustri sempre del mondo del calcio. Ci saranno i presidenti, i presidenti della Lega Nazionale di Lettanti, il presidente del CONI, il presidente della regione Lazio, ci saranno diversi personaggi che tutti insieme cercheremo di trasformare una giornata nel segno proprio come deterrente a questo fenomeno che ormai è troppo presente sia nelle scuole che anche nel mondo sportivo. Quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, ci fa molto piacere che tante altre persone, altre realtà sportive stanno lavorando con questo fenomeno come lo stiamo dicendo. Vi ringraziamo e vi aspettiamo qui a Pianco di San Cesario il primo giugno, sabato 19, saremo qui tutto il giorno. Grazie a tutti e un saluto a argomenti. Ciao Stefano e complimenti veramente di cuore per questa grande iniziativa.